Prima che venisse abbandonata è stata modificata. Chi vi ha operato è infatti sostituito il tradizionale sistema di innesco, la spoletta e il detonatore, con una miccia lunga una decina di centimetri. Sembra essere questa, almeno per il momento, l'unica certezza, così come confermano gli stessi investigatori della squadra mobile che stanno indagando sull'episodio. Certo è che il rinvenimento di un ordigno lungo una strada frequentatissima, come la via vecchia Pentimele, non può che destare nuove preoccupazioni. È stato un passante, poco prima dell'evento, a lanciare l'allarme al 113 dopo essersi imbattuto con l'insolito oggetto poggiato sul marciapiede che dista pochi metri di distanza da questo complesso residenziale e proprio di fronte al Dipartimento Provinciale della Motorizzazione Civile. Si tratta di una classica bomba a mano impiegata per finalità belliche, più comunemente conosciuta con il nome di granata o ananas per la forma che ricorda il noto frutto tropicale dato dalle placche metalliche che in caso di esplosione si trasformano in vere e proprie schegge letali capaci di provocare, secondo gli esperti, danni in un raggio d'azione di 50 metri. Subito intervenute pattuglie di polizia e carabinieri, la zona è stata immediatamente cinturata per oltre due ore al fine di consentire le operazioni di disinnesco. Quale, tuttavia l'esatta portata dell'ordigno, saranno gli esiti degli accertamenti, degli specialisti del gabinetto di polizia scientifica, diretti dal vicequestore aggiunto Diego Trotta e degli artificieri a chiarirlo. Spetterà invece agli uomini, del dirigente della mobile Gennaro Semeraro, cercare di risalire ad autori e probabili destinatari. Nella zona del rinvenimento abiterebbe anche un alto ufficiale della Guardia di Finanza, ma questo, come altri obiettivi, vengono scartati. E infatti, come già detto la via Vecchia Pentimella è una strada frequentatissima anche in orari come quello in cui è avvenuto il rinvenimento. Inoltre, a qualche centinaio di metri di distanza, si trova il dodicesimo reparto mobile della Polizia di Stato, dunque chiunque potrebbe essere il destinatario. Il resto sono solo ipotesi, così come quella del possibile avvertimento. A quanto si è avuto modo di apprendere, infatti, l'amiccio dell'ordigno non avrebbe presentato segni di innesco.